Diamoci una scossa e il nome del progetto che questa mattina è stato presentato nella sede del Comune di Pesaro in occasione della giornata nazionale della prevenzione sismica. L'iniziativa, promossa per la sua prima edizione della Fondazione Inarcassa, con il supporto del Consiglio Scientifico Superiore dei Lavori Pubblici, della Protezione Civile e dei vari rettorati delle università italiane, ha lo scopo di favorire la cultura della prevenzione e un concreto miglioramento delle condizioni di sicurezza del patrimonio immobiliare. L'evento sarà oggetto di un piano di comunicazioni declinato a livello nazionale e locale con un centinaio di eventi al suo interno che accompagneranno la giornata celebrativa a partire da domenica 30 settembre nelle numerose piazze principali delle città italiane. È possibile accedere ai gazebo, prenotarsi lì per una visita del tutto senza nessun impegno, senza assolutamente nessuna spesa. Lì verrà un tecnico preparato dove valuterà il rischio sismico che può avere l'edificio del cittadino. Uscirà fuori una sorta di semaforo, verde l'edificio è totalmente sicuro, si può definire sicuro, giallo ci sono punti di criticità, rosso è la situazione più critica dove è il caso a quel punto di procedere ad approfondimenti maggiori ma dove il proprietario è totalmente libero di farlo o non farlo, valutare altri tecnici e quello che gli tiene opportuno. A seguito dell'adesione al programma il cittadino in veste di proprietario, affittuario, titolare di diritto oppure amministratore di condominio verranno date anche informazioni sulle aggevolazioni finanziarie messe a disposizione dallo Stato per il miglioramento e la sicurezza delle case con l'incentivo eco bonus e sisma bonus. Quello che si vuole pubblicizzare, rendere quindi al pubblico con questa iniziativa curata dal Consiglio Nazionale di Ingegneri e Architetti su scala nazionale è quello di poter utilizzare lo strumento del sismo bonus che è uno strumento di legge che permette a fronte di determinate opere che migliorano la classificazione di risposta sismica dell'edificio, a fronte della spesa di avere un beneficio fiscale che può permettere la defiscalizzazione fino al massimo dell'80%. Grazie